Buonasera a tutti i gentili telespettatori, benvenuti al 21esimo appuntamento stagionale con la nostra trasmissione, parleremo di molte cose, parleremo della Lube che dopo domani inizia la serie di semifinali playoff contro l'Itas Trentino che nel frattempo ha guadagnato mercoledì la finale di Champions League pareggiando 2-2 il conto dei set a Perugia poi il Golden Set è stato assolutamente ininfluente, parleremo di Serie 3 con la Met Store che continua la sua striscia positiva ed in attesa del derby di domenica che trasmetteremo ovviamente in diretta contro la Vigil Arfano ma più direi che la squadra del giorno e la squadra dell'anno 2021 per quella che è riuscita a fare in questi tre mesi parliamo della CBF Balducci, Elvia Recina, Macerata con noi la palleggiatrice e capitana Iliana Peretti ciao ben trovata e il presidente Pietro Paolella Buonasera, grazie per l'invito e in mezzo la Coppa appena vinta presidente perché dicevo che voi siete veramente la squadra di questo inizio 2021, 13 vittorie consecutive, l'accesso ad una pool promozione che ad un certo punto sembrava come dire una sorta di chimera, la perla appunto della vittoria in Coppa Italia una posizione di classifica in pool promozione che autorizza anche qualche pensiero ambizioso com'è stato possibile dopo tutto quello che avete passato? ma questa è una bella domanda ma io penso che perché dalla tua risposta dipende tutte le altre sì, chiaramente a volte sulla vita le difficoltà ti combattano quindi probabilmente è successo qualcosa, è scattata la molla che le ragazze effettivamente hanno preso per un 70-75% questo maledetto Covid e sono state ferme 32-33 giorni poi ci hanno imposto di ricominciare subito perché i tempi erano mostretti noi abbiamo perso 3-4 partite di fatti eravamo in fondo alla classifica con il morale un po' e poi la balleggiatrice per motivi suoi propri personali Dal Ancelotti lo ricordiamo sì, Dal Ancelotti non ha retto a questa situazione a casa il papà non stava bene quindi una situazione un po' così travallante però ecco come dicevo prima probabilmente c'è stata questa svolta perché le ragazze sapevano che andavano a giocare dopo 5 giorni appena di preparazione e non era il massimo noi abbiamo fatto una situazione nelle nostre possibilità proprio per farle riposare un pochettino più perché poi rischiavi che si faceva male e invece come per inganto come dice il sogno poi sicuramente qualcuno dall'alto c'è sempre che poi diremo chi ci abbiamo dall'alto Allora cerchiamo di fare ordine a beneficio dei nostri telespettatori Ilenia, voi siete stati colpiti duramente dal virus diciamo che ad un certo punto non si contavano nemmeno più le gare rinviate Al di là del problema sanitario che non ci compete e che ovviamente era il più grave ed urgente che clima c'era e come siete riusciti a tenere alta la tensione in quei giorni che presumo siano stati molto complicati? Sì, sono stati giorni complicati anche perché comunque stare chiusi in casa poi io personalmente vivendo con la mia famiglia ero proprio rinchiusa nella mia camera quindi è stato ancora più difficile Altro che quarantena proprio Esatto Reclusa Sì E facevamo esercizi con il nostro preparatore in videochiamata cercavamo di farci forza tra di noi ma non ti nego che dopo già due o tre settimane era veramente difficile Quindi forse è stata proprio la molla della stravoglia di giocare Esatto Infatti come ho già detto in un'altra intervista secondo me il fatto del virus possiamo dire che ci ha unito molto a livello soprattutto umano, personale soprattutto con la voglia di ritornare in campo che era veramente forte e questo secondo me ci ha permesso cioè secondo me anche proprio in campo si è visto l'unione che c'è stata tra di noi e la voglia proprio di ritornare a giocare che era veramente forte Nonostante la classifica vi concedeva pochissime speranze non so se voi ci avete sempre creduto ma credo che a dicembre, sotto Natale ma neanche il più ottimista dei presidenti poteva credere alla pulpromozione Sì, era una situazione un po' difficile però come ti ho detto in quel momento noi volevamo solo ritornare a giocare poi quando abbiamo visto che comunque potevamo farcela che nonostante fisicamente eravamo un po' acciaccate anche un po' stanco perché comunque fare veramente quattro allenamenti penso avremmo fatto e poi ritornavi subito a giocare tutte quelle partite rimandate non era facile però quando abbiamo visto che comunque c'eravamo potevamo farcela da lì secondo me c'è stata proprio la svolta e ci siamo caricati e questo ci ha dato molta forza per andare avanti Allora, secondo me ma in generale Pietro ci sono delle gare nel corso di una stagione che fanno la differenza che possono fare acquisire anche una consapevolezza nuova dei propri mezzi secondo me gennaio per voi è stato veramente importante perché vincete Ravenna battete la Megabox in casa battete Cutrofiano questo un po' vi ha messo letteralmente le ali vi ha fatto acquisire anche credo una consapevolezza nuova queste vittorie importanti Assolutamente assolutamente sì perché hanno dimostrato che loro effettivamente poi giocate pure bene quindi a volte sai e questa è arrivata ancora più consapevolezza come diceva il capitano gli ha fatto credere in più di quello che era oltretutto la società è stato onestamente noi e come hai detto giustamente Andrea a Natale non è che abbiamo passato perché sapevamo della forza delle ragazze perché dico ma mica ci siamo rammolliti all'improvviso perché cioè noi sapevamo chi ce l'avevamo il problema però per qualcosa che è inaspettato e sicuramente adesso diciamo per carità il covid è una brutta bestia e un pochettino anche questa coppa che ci sta qui vicino la volevo dedicare a tutte queste persone che ha sofferto e che soffre perché effettivamente è brutto però per quando è arrivata la squadra ci ha dato quel tocco e adesso chiaramente noi la nostra politica è sempre basso dopo basso però è una grande soddisfazione è un grande onore vedere questi ragazzi poi è arrivata la pool promozione come dicevo che ad un certo punto nemmeno il più ottimista dei vostri tifosi poteva prevedere qualcuno Ilenia sospettava magari che voi giustamente dovevate riprendere un attimo il fiato invece con i cavalli di rincorsa siete partiti alla grande vero? Sì diciamo che subito dopo tra l'altro subito dopo la coppa quindi dopo la finale ci siamo nuovamente riscontrati contro Mondovì e anche lì comunque non era facile perché comunque volevamo dimostrare che non era stato un caso e ci siamo riusciti anche se vabbè abbiamo vinto 3-2 però comunque ci siamo riusciti poi contro Roma subito un'altra squadra secondo me tra le più forti che abbiamo nel campionato anche lì siamo riusciti comunque a dimostrare che in questo momento noi se giochiamo come stiamo giocando se giochiamo bene possiamo veramente competere con tutte secondo me in questo momento noi siamo consapevoli della nostra squadra e della nostra forza e questo ci rende competitivi contro tutti senti adesso mi viene in mente una domanda c'era un allenatore anche nella pallavolo però non posso fare il nome molto famoso e molto prestigioso che attaccava nello spogliatoio gli articoli di giornale in cui dicevano beh questa squadra non sarà in grado di fare nulla una squadra giovane ha già fatto abbastanza Paniconi con voi ha fatto lo stesso prima di Mondovì dove non eravate favoriti eravate tutto il contrario di favoriti sì diciamo che ci ha molto caricato il suo discorso pre partita perché comunque cioè lui ovviamente sotto questo aspetto è molto molto motivante però cioè tutti nell'area proprio si sentiva questa cosa che noi eravamo i ultimi arrivati esatto arrivate lì solo per fortuna mentre Mondovì ovviamente era la squadra cioè favorita ma anche proprio sulla carta come giocatrici stavi per dire preferita no vabbè favorita però noi cioè veramente siamo andati lì senza nulla da perdere secondo me come ho già detto questo ci ha aiutato molto non avevamo pressione volevamo far bene volevamo dimostrare comunque non eravamo arrivate lì per caso e ci siamo riuscite quindi sono molto molto contento è stata la partita perfetta quella con Mondovì 3 a 0 sì secondo me sì anche perché il primo set eravamo andate sotto e nonostante questo loro erano partite proprio a bomba nonostante questo noi siamo riusciti a rimanere compatte unite e a recuperare quel set che secondo me è stato determinante perché da lì abbiamo visto ok ce la possiamo fare e secondo me sì è stata proprio una partita perfetta perché abbiamo difeso tanto murato tanto e questo ha fatto sì che siamo riusciti a vincere così poi 3 a 0 io sinceramente proprio non me l'aspettavo cioè ci credevo perché comunque sapevo che eravamo arrivate lì cariche e pronte però una vittoria così non me l'aspettavo torniamo a parlare per un attimo di questa famosa semifinale non disputata con la Megabox noi abbiamo sentito il direttore sportivo Pier Giuseppe Babbi voi come avete vissuto quelle ore diciamo convulse Pietro dove non sapevate se partire non partire mi dicevi siete partiti e poi siete precipitosamente dovuti tornare indietro sì allora premesso che noi ci eravamo passati e sapevamo che loro venivano da un solo caso positivo quindi tra l'altro il protocollo parlava chiaro che fino a tre giocatrici si poteva giocare io mi sono sentito anche il mattino con il presidente con Ivano con Ivano Angeli perché c'è un rapporto bellissimo e io gli ho dato la nostra vicinanza come società e qualsiasi cosa che poteva capitare poi nel frattempo con le ore loro hanno rifatto i vaccini i tamponi adesso si parla sempre i vaccini hanno fatto i tamponi e è venuto fuori che ce ne erano altre due e devo dire che molto di fatti con Piero ci siamo sentiti alle 14 e 15 perché ho detto Piero io devo partire perché la Lega ufficialmente alle 14 e 15 la partita doveva giocarsi noi siamo partiti la partita era 17 e 30 noi siamo partiti alle 14 e 15 da Macerata siamo in Bulma e poi notizia notizia ma anche le ragazze stesse perché poi onestamente dobbiamo dire sta cosa ci dava un po' di timore ma non vi entusiasmava giocare con loro che stavano male che poi non si sapeva quante ancora potevano capitare quindi tu capisci che è una situazione ma soprattutto per la salute per loro e poi non era una partita devo dire chapeau a loro perché hanno preso una decisione non semplice perché fai una semifinale chi fa sport vuole sempre giocare specie quando c'è una finale di Coppa Italia in palio ringrazio colgo l'occasione stasera proprio per ringraziarli perché se so dimostrare poi ci siamo sentiti hanno richiamato e un pochettino probabilmente le ragazze hanno giocato anche perché perché sono tutte le ragazze tutte amiche tutte atlete e noi sapevamo ma c'era dispiaciuto perché volevamo farla le partite si giocano in campo chi fa sport vuole questo quindi noi non l'abbiamo nemmeno festeggiata perché ci sembrava che era così poi la finale è normale che è andata come è andata però insomma applauso ai cucini della Megavox facciamo un grande bocca al lupo per superare questa situazione che attualmente non è semplice però Pietro restando con te poi lo chiederò anche Ilenia la domanda adesso come si suol dire sorge spontanea perché voi battete Mondovì battete l'acqua e sapone Roma avete disputato comunque 18 partite quando la capolista ne ha disputate molte di più si possono fare pensieri come dire temerari addirittura in ottica primo posto che lo ricordiamo ancora a beneficio di chi ci segue garantisce la promozione diretta ma dobbiamo essere anche onesti noi abbiamo purtroppo avevamo accumulato un distacco notevole perché come dicevamo all'inizio la prima fase non è stata come si pensava poi chiaramente come si dice il pallone rotondo l'appetito viene mangiando l'appetito viene mangiando chiaramente il my sponsor la società ci siamo visti e non vorremmo lasciare onestamente nulla al caso e poi è normale che la pressione tutte queste 13 vittorie tutti giocano perché è normale che tu sei la squadra che ha vinto la Coppa Italia sei quella che 13 partite non perde quindi è normale che si casano di più questo però serve anche a noi per dare quella spin di più e noi siamo pronti perché il sogno nostro come ti dicevo ogni volta che siamo visti questo progetto è partito purtroppo dalla perdita del grande Tito che è quella persona che è stata all'altro che c'era la mano Tito Antinoni ricordiamo il padre il fondatore ed anima dell'Elvia Recina lo è tuttora forse l'anima dell'Elvia Recina poi qui c'è c'è una ragazza che effettivamente l'ha vissuta tutta perché è cresciuta con lui e adesso sta arrivando qui quindi è ancora più orgoglio di questa società avere un capitano una giocatrice che alza la Coppa e noi non ci poniamo limiti sempre chiaramente rispettando tutti passo dopo passo perché no vediamo vediamo chiaramente il primo posto dobbiamo essere onesti è difficile ci vuole un mezzo miracolo un miracolo intero forse poi rispettando sto Covid che non si capisce speriamo che veramente con questi vaccini si possa tornare alla normalità e noi ci siamo anche perché io faccio un'osservazione da esterno no Elena voi battete Mondovì in Coppa e in campionato battete Roma adesso mi viene in mente in Coppa e in campionato quindi tutto sommato avete i mezzi per giocarvele queste chance poche o tante che siano senza pressioni forse anche con la serena consapevolezza che già state facendo molto sì secondo me cioè in questo momento come ha detto Pietro siamo un po' quella squadra che tutti vogliono vogliono battere dal centro delle cronache esatto però noi cioè sinceramente questa pressione non la stiamo sentendo noi stiamo giocando per riuscire a fare più punti possibili e arrivare più in alto possibile in questa classifica come ha detto anche Pietro abbiamo purtroppo parecchi punti che ci differenziano dalle prime in classifica però comunque ci sono sempre i playoff quindi più arriviamo in alto e più questo ci avvantaggerà per i playoff e poi lì saranno partite proprio a sé quindi in questo momento noi veramente stiamo giocando per cercare di vincere più possibile e di fare più punti possibili quindi io personalmente non sento molta pressione ma perché abbiamo visto che possiamo veramente competere con tutto e quindi ce la giochiamo proprio tranquillamente secondo te che ti avrebbe detto Tito Antinori se ci fosse stato a Rimini? sicuramente l'abbiamo fatta grossa sì sarebbe stato molto orgoglioso secondo me poi come ho già detto per me proprio alzare questa coppa era il sogno cioè da quando ero piccolina poi lui mi ha sempre portato solo un piedistallo quindi secondo me sarebbe stato molto molto orgoglioso venite anche dallo stesso quartiere no praticamente o sbaglio? no cioè io sono macerata macerata lui era di Villa Potenza però sono cresciuta da Villa Potenza però vabbè sei nata e cresciuta lì no praticamente allora adesso vediamo un attimo gli highlights della Coppa Italia poi torneremo in studio con i nostri ospiti non ci come back no more don't you come back no more don't you come back no more what you say what you say Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Handle, 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 handle ! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ma probabilmente è le scommesse che ci piace vincere perché è venuta per caso proprio perché c'era stata proposta, è stata vista però così a un certo punto il nostro grande direttore sportivo come tante cose, Maurizio Storani ha intuito, dice facciamola venire qua, gli paghiamo il biglietto. Lei non aveva giocato mai fuori dalla Polonia se non sbaglio? No, no, questa ragazza dopo due giorni non ci abbiamo pensato proprio, poi in data comandata ci siamo voluti finire, lei si era trovata bene e abbiamo puntato su di lei come abbiamo puntato su un'altra giovane, perché non ce lo scordiamo che abbiamo con un'altra ragazza opposta, a parte ce ne sono due, tutte e due giovani. Quindi siamo partiti con queste idee, questa convinzione è al momento, al momento perché anche… Forse è andata veramente al di là anche delle vostre più grosse aspettative. Alexandra, che noi la chiamiamo Ola, effettivamente è una forza della natura, perché il bello di lei è che può prendere due muri, tre cappe, ma lei tira, tira, tira… Senza ritegno! Senza ritegno! E poi sempre si arrabbia molto, molto, ma molto quando quei pochi frangenti, perché c'è da farla un po' rifiatare come si dice, e lei quando una non accetta, perché non le accetta nessuno, però a questi livelli, e sa che sta facendo bene, è una forza della natura. Non è male per una palleggiatrice avere una ragazza del genere a cui sai che puoi dare la palla con tranquillità. Sì, per me è proprio un punto di riferimento lei. Poi io sinceramente per adesso, in tutte le squadre da due, non ho mai visto nessuno tirare così forte, cioè proprio tira forte. Comunque lei è una ragazza anche molto tranquilla, quindi anche se un'alzata non è precisa, lei non fa polemiche. Non tira tutto, quindi per una palleggiatrice è proprio la giocatrice ideale. Tra l'altro io l'ho vista qualche volta e qualche video, secondo me ha anche margine di miglioramento, tra l'altro è anche molto giovane. Invece vedete questa ragazza qui che mi racconta, è stata responsabilizzata per tutta una serie di circostanze al massimo. Bravo, bravo. Ma noi quest'estate, come tutte cose, lei aveva bisogno di giocare. Chiaramente è cresciuta tanto perché aveva Elisa Langellotti che è una ragazza che le mani ce l'adoro. E lei è normale che poi aveva anche probabilmente altre offerte, però come diceva prima è cresciuta su questa società. Se voleva metti in gioco. Perché? Dice, sto a casa. La società è una società che io ci sono nata, ci sono cresciuta e la vivo. Quindi poi è andata veramente, io non lo so, quello che è stato, che è successo, noi non la scopriamo perché Elenia, ricordiamoci, è la palleggiatrice che ci ha portato in Serie A. Particolare non da poco. Quindi diciamo che poi non è semplice, da una B2 i campionati come stati vinti, come stati fatti, e lei è stata l'unica che ha giocato sempre perché sono meritata e perché è brava. Poi è normale che c'è delle situazioni che poi non vanno, poi lei stessa probabilmente forse non c'era un pochettino più fiducia di lei. Poi abbiamo iniziato quest'anno, ha fatto una partita che lei mi si è venuta vicino e mi ha detto io, non ero io, non so che mi succedeva. È come se qualcuno gli teneva le braccia. Però poi il caso ha voluto a Natale che è successo questo successo. Si è resettato un po' molte cose. Abbiamo preso un'altra ragazza brava, che tutte e due sembrano che si conoscono da anni. La palleggiatrice Galletti, dici. Sì, e insieme proprio quello che dicevi prima te, si è creato Elisa e Ilenia, adesso chiaramente chapeau. Tu sei stata tentata di lasciare questa società? Ma tentata, diciamo, un parolone. Cioè sì, sicuramente ho ricevuto un'altra offerta. Sapevo che qui avrei avuto ancora davanti comunque una palleggiatrice come Elisa, che ovviamente era molto più forte di me, con più esperienza e tutto. Sapevo che potevo ancora imparare molto da lei, però sicuramente, cioè io sono giovani, quindi volevo giocare, questo sì. Poi ho parlato molto anche con Luca, so che lui ha molta fiducia in me, mi voleva ancora far crescere ancora un altro anno. Quindi, cioè proprio con molto piacere ho deciso di rimanere. Tu insisti molto, no, nei tuoi discorsi migliorare, migliorare, progredire. Dove ritieni di dover lavorare, di avere urgenza, di lavorare, di progredire, di migliorare? Sicuramente su tecnica del palleggio un po' dovrò ancora migliorare. Comunque poi il ruolo del palleggiatore è un ruolo che con gli anni migliori sempre di più, secondo me. Insomma la storia è piena di palleggiatori e palleggiatrici che maturano ad un'età molto più avanzata rispetto ai martelli in genere. Esatto, e secondo me già in questi due o tre anni credo di essere un po' migliorata, ma so che posso ancora migliorare. Sicuramente il fatto di giocare, adesso giocare titolare, per un ruolo come il nostro aiuta molto, anche perché acquisisci più fiducia, come diceva Pietro. Venivo da un anno in cui avevo giocato poco, essendo abituata a giocare sempre è stato un po' difficile, quindi ho sicuramente perso anche un po' di fiducia. Poi queste partite in cui mi sono ritrovata, molte partite anche da sola, perché quelle da recuperare, anche Giulia Galletti non era disponibile. E questo mi ha fatto aumentare la fiducia, la responsabilità, e questo mi ha aiutato molto. Secondo me tu ti sei resa conto che sei una palleggiatrice da Serie A, cioè che in questo contesto ci puoi stare, ci puoi stare bene. Sicuramente mi mancava questo, comunque non avendo mai giocato titolare non sapevo se ero all'altezza della situazione. Poi ci è voluto qualche partita, ma sono riuscito a capirlo e quindi adesso mi sento proprio con più fiducia e questo mi aiuta molto. Te Pietro, c'è stata qualche ragazza che ti ha sorpreso in maniera particolare, oltre a Ilene, proprio nel rendimento, e oltre alla Lipska di cui abbiamo detto? Diciamo, la prima parte del campionato, ma non per i risultati, perché vedevo le ragazze, non sapevo, abbiamo cercato di parlarci, cioè come un buon padre, che parla perché onestamente il bello è anche quello che sono tutti figli, poi è normale che ognuno sappiamo i nostri ruoli, noi vogliamo essere una società che sta più vicino possibile alle ragazze, e non c'era via di mezzo. Poi all'improvviso queste ragazze, posso dire che ce n'è stata più di una, perché chiaramente noi, come dicevamo prima, abbiamo preso Sofia Rimieri che veniva da una B, non aveva mai giocato, farla partire, poi c'è avuto l'invortunio, il Covid, cioè sembrava che questa ragazza non riusciva. Adesso, poi... È una certezza. Poi io penso che senza nulla noi abbiamo il libro più forte della 2, ma è proprio come persona, come... E non nascondendo, cioè ne abbiamo 13, veramente adesso sono 13 persone, io... E non sottovalutiamo l'importanza del libero, che comunque secondo me è un ruolo, non dico decisivo, ma determinato. Diciamo che chi ci abbiamo vicino, che è il capitano e la balleggiatrice, è il libero, nella volo moderna, se vuoi fare una squadra bella devi partire da queste due figure. Poi è normale che c'è tutto un insieme, però devo dire che Veronica, per la serietà, per quello che sta da certo... Ma a me, dico soltanto, rubo dieci secondi, l'ultima partita con Roma, il quarto, sette... A parte lei, che ci ha avuto degli elogi, che non si sa bene se era una balleggiatrice o un secondo libero, perché difende tanto. Ma Veronica, solo se, non so che gli potevi fare, se prendevi un martello, perché non cadeva più una palla. Ha fatto due o tre recuperi, che... Bello, bello, è una cosa che poi, ecco, a vedere la squadra adesso è piacevole, perché gioca. Assolutamente. Gioca una bella palla a volo. Allora, cerchiamo di rituffarci un po' nell'attualità, perché il ritmo della pool promozione, il calendario va avanti, seppur in grande fatica, allora sono rinviate, lo possiamo vedere Mondovì, Megabox, Vallefoglia, San Giovanni, Marignano, Marzala e Green Warriors, Sassuolo, Soverato. Si giocheranno domani alle 17, Roma contro Cutrofiano e la vostra partita alle 17.30 contro l'Eurospin di Pinerolo. Ilenia, voi immagino un po', conoscete questa squadra, una squadra giovane, tutta italiana, ma con diverse individualità interessanti. Sì, non ci siamo mai scontrate ancora con questa squadra, però abbiamo, vedendo anche i video, mentre facciamo video per altre squadre, secondo me è veramente una squadra forte, forte che ha, sì, molte individualità, c'è anche l'opposta a Zavo, che è una delle miglior realizzatrici, tra l'altro, della 2, però secondo me ha proprio un bel gioco, gioca bene, gioca molto bene, quindi secondo me in questo momento, insieme a noi, forse è la squadra che sta esprimendo il miglior gioco, quindi sicuramente sarà una bella battaglia. In settimana ricordo che Mondovì, vincendo a Soverato 3-1, ha anche aumentato il divario sulle dirette inseguitrici, pur con diverse partite disputate in più, ecco, la classifica, secondo me, no Pietro, è meglio anche non guardarla, perché è talmente interlocutoria, no, con tutti i recuperi che ci sono, che è meglio pensare al proprio e basta. Assolutamente, sì, assolutamente. Poi adesso noi, fatto questa partita, dovremo partire martedì, perché andiamo a Marsala, quindi il 31 giocheremo a Marsala, perché prima avevamo giocare il 6, poi c'è stato, avevamo fatto già i biglietti e tutto, c'è stato cancellato il volo, adesso per volare è un problema, è un problema serio e grosso, poi abbiamo trovato un'altra soluzione e andiamo giù il 30 e giochiamo il 3-1. Diciamo, tra l'altro, che tutto è un po' in evoluzione, perché le partite da recuperare, no Pietro, sono tantissime, anche come società e come Lega vi vedrete a breve per, come dire, fare un po' lo stato dell'arte, cioè il punto della situazione, vedere quali soluzioni potranno prendersi per concludere la stagione, perché forse la priorità non scontata è concludere la stagione. Sì, hai detto bene, noi probabilmente lunedì prossimo ci sarà una consulta di tutte le società di Serie A2, perché bisogna fissare delle date prioritarie, perché diciamo che do un'anteprima, una bozza, nel senso che l'idea è quella che, chiaramente se c'è la possibilità che se finisca tutte le partite a fine aprile, chiaramente ci saranno i quarti e i semifinali, se si prolunga un pochettino di più, probabilmente ci saranno solo le semifinali, cioè le prime quattro squadre e non si nasconde. La ragione in più per cercare di fare punti, insomma. Sì, speriamo che veramente sto Covid, ma per chi sta male, per chi, se anche adesso fortunatamente è meno aggressivo, però l'ospedale, queste cose così, e ripeto, noi per quello piccolo che possiamo fare, portando sta coppa, almeno un pochettino di sollievo a qualche persona, penso di avere la data, quindi per questo genererebbe ancora di più di orgoglio. Certo, tra l'altro il pomeriggio stesso, subito dopo il rinvio, voi se non sbaglio avete fatto anche un post sulla vostra pagina Facebook, non è il caso di esultare per una vittoria che non c'è stata, perché non si esulta per queste cose. Come dicevo, in questo fine settimana inizieranno anche le semifinali play-off in Superlega. Domani alle 20.15 la Seer Safety, eliminata dalla Champions, giocherà a gara 1 contro il vero Volley Monza, mentre domenica alle 18 la Lube riceve in casa l'Itas Trentino, con il morale a mille, proprio per la qualificazione alla finalissima di Champions, dove affronterà il Kezzi Erzin di Nicola Gerbic. La gara sarà diretta da Zanussi e Florian. Stanno andando molto bene anche i vostri colleghi della Mestor, che sono stati ospiti la settimana scorsa. Non sarebbe male andare a braccetto in una categoria superiore, però di questo ovviamente precorriamo troppi tempi, anche perché qui si deve finire ancora la regola season e finirà proprio domenica prossima con questo programma. Motta di Livenza, Prata di Pordenone, poi ci sarà il derby Mestor-Vigil Arfano, che sarà diretto da Ugo Feriozzi e Debora Proietti, ricordo alle 18 con la diretta sulla nostra emittente. Poi ancora Sama, Porto Maggiore, Sandona di Piave, Porto Viro, Brugherio, Montecchio Maggiore, Torino, mentre l'unico anticipo che si giocherà domani alle 18 sarà quello tra Unitrento e Mosca, Bruno, Bolzano. Gara peraltro in influente. Poi inizieranno i play-off. Per quanto riguarda invece il girone blu, la Videx Grotta Zolina giocherà domenica alle 18 a Pineto con l'obiettivo di difendere il primo posto dopo il bel successo contro Galatina. Siamo quasi in conclusione con Ilenia Peretti e Pietro Paulella. Voi Pietro avete una proprietà, come dire, molto vicina ed appassionata. Non succede, ma se succede? Se succede, hai detto bene, molto appassionata conoscendo il comandatore Badducci e tutta la famiglia, Massimiliano, Maria, Benedetta e Jessica. Io penso che un pensierino, cioè, è una cosa grande, grossa, è un impegno notevole, anche che un impegno quest'anno, perché poi quest'anno le spese sono superiori a... Diciamo, il bilancio è stato aumentato di un 35%, perché purtroppo con i tamboni, sanificazioni varie. Però la famiglia c'è e noi siamo veramente... No, fortunati direi più, non so una parola perché... Quindi non si vede come un obiettivo... Adesso, a prescindere da quest'anno, non si vede come un obiettivo che spaventa, ma un obiettivo che stimola. Diciamo che qualcuno della famiglia ha detto e non è finita qui. Poi, se posso proprio accennarmi l'ultima cosa, proprio ai nostri cugini che condividiamo, noi il palazzetto condividiamo sia con la società che è Maciaoli che fa la B, che sta andando alla grande. Anche loro, sì. La Mad Store, io glielo auguro veramente, perché li vedo come lavora, si impegna. Anche loro, onestamente, sono stati un po' sfortunati, perché quando c'è queste situazioni non è sempre così, prima che riprendi tutto quanto. E poi la ginecina, perché noi siamo maceratesi, la Lupe è l'elite della pallavolo. Siamo anche fortunati a stare su una provincia che abbiamo... E quindi, per quest'anno, con tutte le difficoltà, fare un bel trisse, quadrisse che sia, sarebbe... Diciamo che siamo a fine marzo, ci sono tutte le condizioni per concludere alla grande questa stagione. Poi, chiaramente, le incognite sono anche tante, veramente, soprattutto in questa stagione. Però ci sono le condizioni per... Eh, Ilenia, divertirsi. E questo vi auguriamo per il proseguio. Grazie ad Ilenia Peretti, capitane palleggiatrice della CBF Balduccia, il Via Recina Macerata, grazie al Presidente Pietro Paolella. Vi ricordo, come sempre, i nostri appuntamenti ogni venerdì alle 21.30 sul canale 111 e alle 22.45 sul canale 11. Poi questa trasmissione è disponibile dalla domenica mattina sul nostro account YouTube UTVRS. Grazie a voi tutti per averci seguito e buon fine settimana.